a chi mi a chi mi a chi mi avrebbe detto che akraf akimi avrebbe fatto doppietta noi avrei creduto 3 a 1 ragazzi oh che bella vittoria ragazzi che bella vittoria soffertina ma vabbè ma ci sta ma alla fine diciamo che il risultato rispecchia quello che è successo in campo in un certo senso qualche gol magnato uno di lukaku clamoroso davanti al portiere ma glielo perdoniamo perché il timbro ce lo mette sempre e poi e poi akraf una doppietta dopo un primo tempo un po prima mezz'ora un po titubante perché iniziava anche lui cioè continuava a fare degli errori un po madornali no in fase di impostazione questo ragazzo qua è forte è forte cioè c'era una corsa eccezionale cioè voglio dire purtroppo purtroppo alcune volte si perde un po nei passaggi si perde un po nell'impostazione del gioco però comunque comunque è una doppietta importante sul 2 a 1 del bologna mi sono un po imbestialito perché un gol un po stupidello potevamo evitare di subirlo fortunatamente sono passati subito sul 3 a 1 con una grande azione appunto del marocchino meno male meno male ragazzi meno male tre punti sabato sera tranquilli ora ora passiamo con te c'è una vittoria dopo che juve e lazio hanno vinto oggi sta maledetta cazzo di juve c'è il toro più che altro più che juve sto toro porca cazzo se un pareggio lo fai un derby perde sempre ne vince uno ogni vent'anni comunque comunque guardiamo la nostra partita prendiamo la nostra partita e diciamo sulla linea di sabato scorso con sassuolo se non voglio dire vittoria meritatissima qualche sbavatura a volte anche di sanchez perché a volte sanchez va bene entrare il dribbling però non sempre a volte poi anche non tentarlo perché ogni 3 per 2 capita che perde un pallone al centrocampo che poi sono sempre decisivi sempre decisivi sempre pericolosi più più che deficitivi sempre e anche broso vicino a fare passaggi in orizzontale che non capisco cioè non non è che abbiamo giocato male c'è neanche stavolta per carità però vedo dei errori talmente madornali che a volte mi stupisco fortunatamente non sono stati non sono stati importanti per gli avversari perché bologna non ha fatto poi chissà che cosa soprattutto nel primo tempo non abbiamo proprio rischiato nulla quindi di per sé ma alla fine fare qualche errori non ci sta però alcune volte può essere può essere diciamo importante appunto per gli avversari e decidere il risultato comunque parliamo di cose positive abbiamo vinto perché possiamo parlare di cose negative abbiamo vinto 21 punti abbiamo adesso se non sbaglio se non erro meno male meno male ragazzi abbiamo tre vittorie consecutivi in campionato ora abbiamo preso un bel ritmo di risultati ci sta ci sta perché comunque da un po di ossigeno un po di un po di vigore al nostro campionato che comunque questo tanto sofferto campionato che dobbiamo lottare assolutamente e farci sentire assolutamente anche con gli avversari quale con la juve stessa che comunque una favorita non dico che sia favorito il minan perché il minan secondo me si sta facendo un gran campionato ma chissà quanto dura ancora poi vabbè mai dire mai è magari potrei anche sbagliarmi però anche l'intra faceva dei grandi inizi di campionato che era prima in classifica davanti di tre quattro cinque punti perché crollava puntualmente a metà stagione ma comunque qua si parla di una stagione anche un po particolare però tra le altre cose è una vittoria che ci piace assolutamente oltre a quella col Sassuolo continuativa sembra ci sia stata una svolta dopo la sconfitta di Correa Madrid semberebbe perché abbiamo avuto tre risultati convincenti tre gol ogni partita stanno facendo adesso più che sì deve subire due club Borussia zero col Sassuolo uno oggi lo facciamo passare perché l'inter per essere sicuro deve fare tre gol perché minimo due gol li subisce sempre stavolta soltanto uno quindi ci va benissimo ci va benissimo e prossimo di campionato contro il Cagliari contro il Cagliari può essere sì metto giorno e mezza domenica su Dazon che palla su Dazon madonna mi si pianta non lo sopporto comunque ora ora tra le altre cose dobbiamo pensare a mercoledì ma oggi ci godiamo della vittoria da domani pensiamo alla Champions League oggi Conte mi aspettavo facesse più turnove in realtà perché è partito con De Vrij, Skriniar e Bastoni titolari non me l'aspettavo mi aspettavo che almeno uno dei tre partisse dalla panchina in realtà ha voluto giocare con praticamente casi tutti i titolari parte Lautaro ci sta ci sta a pieno Eriksen niente gli ultimi 5 minuti ormai si è capito che Eriksen non fa parte del progetto Inter più più parte così lui così come Nainggolan Essenze non si capisce in che condizioni sia ancora il mistero che già ne parlavo ieri comunque ragazzi ora vediamo di guardare lato positivo tre punti quelli che volevamo tre punti e che tre punti ragazzi convincendo con un Bologna che ne ha vinte due di fila ultimamente quindi ci poteva aspettare anche una sconfitta perché arriviamo da due sconfitte consecutive in due stagioni consecutive 18-19-19-20 in casa col Bologna e non dopo questi due stagioni anche altre stagioni passate che io mi ricordo non mi ricordo se era 12-13-13-14 non mi ricordo comunque fatto sta che perdere con Bologna in casa non c'è da stupirsi stasera invece si è visto un Inter più convinta della vittoria meno male ragazzi allora buon proseguimento di serata buona serata, buonanotte noi ci vediamo non so se domani commentare con un day after vediamo un po' cosa succede ma giusto un po' per parlare ancora anche delle dichiarazioni dei giocatori o di quello che succede quindi aggiornamenti e poi Gameplay Prediction non dimenticatevi penso di farlo martedì martedì così almeno perché tendo sempre a farli il giorno prima adesso della partita perché con i positivi al virus con gli infortuni all'ultimo momento e pim 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 pam almeno il giorno prima sono più sicuro di scrivere una formazione più realistica possibile perché è difficile azzeccare la formazione già normalmente figuriamoci con questa pandemia comunque ragazzi a presto ancora iscrivetevi al canale mi raccomando sempre forza Inter e buona domenica ciao